Ciao da Laura. RealMe Pad Mini è un tablet davvero interessante, specie per il tempo libero. Il colosso cinese ha creato questo tablet all'inizio del 2022, pensando probabilmente a un target di persone che vogliono utilizzare il dispositivo più per il tempo libero che per altro. La RAM e la ROM sono rispettivamente 3,32 GB, con la memoria di archiviazione espandibile tramite scheda microSD. Come ormai con solitudine, nel mondo dei tablet abbiamo sia la connessione Wi-Fi che la possibilità di inserire una SIM per la connessione di rete mobile. Comunque sia, già tenendo in mano il Pad Mini, riusciamo a vedere, ma soprattutto a sentire, la qualità dei materiali impiegati da RealMe. Il peso è di circa 370 grammi ed è particolarmente sottile, con uno spessore di soli 7,6 mm. La porta USB-C supporta anche l'OTG, quindi avremo anche la possibilità di utilizzare le periferiche esterne. A differenza di molti prodotti moderni, abbiamo un classico foro per il jack audio da 3,5 mm, posto sul lato superiore del tablet. Il pannello dello schermo è un IPS LCD da 8,7 pollici, con risoluzione HD. Il display è particolarmente interessante e ben realizzato, con una luminosità massima di tutto rispetto. Sempre nella cornice è presente la fotocamera interna da 5 megapixel, un po' scomoda se dovete sbloccare il tablet con il riconoscimento del volto se lo state tenendo in posizione orizzontale. Il comparto fotografico inoltre è un pochino deludente. La camera posteriore è di 5 megapixel, con una focale da 2.2. La qualità delle foto è mediocre, ma in linea con gli altri prodotti della stessa fascia di prezzo. Sotto la scocca troviamo il processore T616 Unisoc, accoppiato alla GPU Mali G57. A livello di connettività troviamo il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5 e gli ultimi GPS. Niente NFC, quindi nessun pagamento digitale potrà essere effettuato con questo tablet. L'autonomia fa affidamento invece su una grande batteria da 6.400 mAh, che è stata perfezionata per durare fino a 48 ore d'utilizzo. In conclusione si tratta comunque di un tablet ben costruito e con qualche pecca, ma che farà sicuramente felici gli amanti delle serie TV e dei media più in generale. Potete trovare Realme Pad Mini su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Vi invito a supportare il nostro lavoro mettendo un mi piace e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Vi aspetto nei commenti. Ciao, al prossimo video!